Sul calendario segnava febbraio 2020, l'ultima volta che il Carnevale di Fano si celebrava nella sua classica forma. Ora, a distanza di tre anni, causa Covid, ritorna la Kermesse Fanese nelle sue vesti tradizionali, riabbracciando gli eventi che dal 1347 lo caratterizzano. Nelle domeniche del 5, 12 e 19 febbraio saranno ben 14 carri che sfileranno, colorando di festa e travestimento le vie della città. Carnevale di Fano che però debutta formalmente circa tre settimane prima con la cena grassa, evento benefico in programma il 17 di gennaio. Quest'anno torniamo alla grandissima, apriamo il 17 di gennaio, il giorno di Sant'Antonio Abate, dove nella tradizione contadina si ammazzava il maiale, con una cena grassa, una cena di beneficenza. Daremo tutto il ricavato all'Unione Italiana cieca e ai povedenti e grandi chef, tra cui il famoso Antonio Ciotola, cucinerà per noi e i consiglieri dell'ente carnevalesca serviranno ai tavoli. Quindi non mancate al Mediterraneo Show Restaurant, le prenotazioni si possono fare proprio al ristorante Mediterraneo. Altra cosa di cui non posso non parlare è il getto dei dolciumi, che quest'anno è affidato alla ditta Dulciar, una ditta della provincia di Bari, una ditta a conduzione familiare, di grande qualità, che si è voluta avvicinare al Carnevale di Fano. E altra cosa importante, torna la lotteria del Carnevale, i biglietti sono disponibili da subito, anche in carnevalesca e in varie associazioni, con cui avremo la possibilità di continuare a fare della beneficenza, e dove si vinceranno grandi premi, il primo premio, una macchina offerta dalla Ford. Quindi grandi novità, grandi classici che tornano al nostro Carnevale. Il Carnevale è di tutti noi, di tutta la Regione Marche. Quindi amiamolo, tesseratevi all'ente carnevalesca, entrerete a solo un euro al Carnevale.